Buonas dias, buongiorno a tutti, scusate la mia lingua, io parlo in italiano e grazie di questo invito, grazie in particolare all'Università Europea di questo invito e complimenti per questa bellissima università. Il tema del disturbo dello spettro autistico è un tema che in questo momento sta unendo a livello europeo molti paesi e molte nazioni e questo mi sembra un passo avanti perché unire le strade della comprensione scientifica del motivo e delle origini del disturbo, ma ancora di più unire le strade per la comprensione dei migliori trattamenti del disturbo dello spettro autistico e ancora di più unire le pratiche sociali è un grande vantaggio per ogni nazione ed è un grande vantaggio fondamentalmente per le famiglie dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. In ogni paese in cui vado ho la possibilità di vedere che ci sono innovazioni, cose nuove che non ci sono da noi e credo di poter portare qualche aspetto che invece non è presente negli altri paesi. Quindi credo che lo scambio scientifico e di pratiche sociali sia fondamentale in questo momento, momento in cui i disturbi dello spettro autistico che sono fondamentalmente un disturbo del neurosviluppo, quindi una modalità di formazione diversa del nostro cervello, quindi un disturbo che non ha cause sociali ma fondamentalmente cause biologiche che vengono da problemi di vario tipo che poi in parte affronteremo ma che comunque hanno la base nel creare una struttura cerebrale che funziona. Funziona molto bene anche per alcuni aspetti ma funziona in maniera diversa da come funzioniamo noi. Questo disturbo sta diventando il disturbo più grande dello sviluppo, quindi la patologia più diffusa tra i bambini. Siamo arrivati a delle cifre veramente allarmanti perché cominciamo a parlare di un bambino autistico ogni 66 bambini e questo dato dell'incremento sta aumentando di anno in anno. Fino ad alcuni anni fa dicevamo ma perché la diagnosi sta migliorando? Ci spiegavamo l'aumento dicendo ma prima non si riconoscevano, oggi si riconoscono, aumentano gli autistici, diminuiscono altre patologie. Oggi purtroppo dobbiamo ammettere che questa combinazione di modificazioni genetiche con causalità ambientali e con modificazioni ambientali sta portando comunque all'aumento di questa patologia. È una patologia complessa, difficile perché è molto eterogenea, cioè è diversa da un soggetto all'altro. Le cause che la determinano sono diverse. Noi parliamo di autismo come un grande nome che però viene messo a situazioni che dipendono da cause diverse e vengono date quindi a soggetti che hanno difficoltà diverse l'uno dall'altro. Quindi dobbiamo entrare a capire quali sono queste cause e la grande difficoltà dell'autismo è che fondamentalmente richiede dei trattamenti che devono essere altamente individualizzati. È una patologia che purtroppo si tira dietro molte comorbidità. Il ritardo mentale, ma di questo sono molto contenta di poter dire che negli ultimi anni, da quando stiamo cominciando a intervenire molto presto con i bambini con disturbo dello spettro autistico e quindi stiamo cominciando ad avere quella che chiamiamo diagnosi precoce e di intervento precoce, il ritardo mentale si è ridotto moltissimo. Quindi il ritardo mentale fondamentalmente erano delle incapacità dei bambini di utilizzare, di formare più che utilizzare la propria intelligenza nel contesto dell'interazione con altri adulti. I bambini stavano da soli e quindi non sviluppavano delle competenze. Oggi il bambino riesce da subito a interagire con adulti che possono essere la famiglia, gli insegnanti e i terapisti che cambiano la direzione dell'isolamento e cominciano a creare una rete sociale e quindi il ritardo si sta riducendo. Come si stanno riducendo i disturbi d'ansia, i disturbi dell'umore? Perché molti di questi disturbi erano conseguenza proprio dello stato di solitudine di questi soggetti. Allora in ogni caso la grande difficoltà dell'autismo e il problema della diagnosi precoce è nel fatto che non abbiamo alcuni marker biologici, quindi nessun esame biologico che ci permette di dire c'è autismo o no. Abbiamo una diagnosi che è tutta comportamentale, cioè tutta fatta osservando dei comportamenti. Fondamentalmente noi dobbiamo avere due grosse categorie di comportamenti nei bambini, difficoltà nella socializzazione, nella comunicazione e interessi ristretti, ripetitivi e difficoltà sensoriali. Già nel dirvelo sembra chiaro che quanto difficile è capirlo in un bambino piccolo. Difficoltà nella comunicazione ma il linguaggio si acquisisce in una gamma di età che varia da un anno ai tre anni, quindi è abbastanza difficile. Il grande problema è stato proprio quello di poter individuare degli indicatori precoci che non sono la diagnosi già fatta ma dire attenzione c'è un rischio, proviamo a lavorare con questi bambini e vediamo come si evolve. Molte volte lavorare precocemente ci aiuta verso una evoluzione molto più positiva. A livello quindi di chi lavora con l'autismo e a livello sociale noi abbiamo a mio avviso tre grosse sfide, tre grossi compiti e sfide. Uno la diagnosi di cui ora entriamo a parte, due la scuola, con scuola intendo tutto il sistema educativo che nasce dal bambino nella scuola dell'infanzia, nei primi anni di scuola fino all'università, quindi tutto il sistema educativo e poi la vita sociale e il lavoro. Io vi ho detto che sono contenta di poter dire che diminuisce il ritardo mentale. Vero, diminuire il ritardo mentale vuol dire però che abbiamo delle persone competenti, capaci, con un cervello che funziona in maniera diversa, di cui ci dobbiamo occupare di organizzare la loro vita sociale e il loro ruolo produttivo. Perché una persona intelligente non può stare a casa o in un istituto, deve trovare una via adeguata al suo lavoro e quindi questa è la terza sfida che è molto più recente perché ora abbiamo i primi soggetti che vanno inseriti in questa modalità qua. Prima purtroppo molti autistici, poi venivano nei centri socioeducativi, erano autistici gravi perché non avevano sviluppato delle competenze adeguate. Oggi siamo contenti da una parte ma socialmente abbiamo un compito impegnativo. Guardiamo l'aspetto della diagnosi. Allora, fare una diagnosi precoce instaura un circolo virtuoso. Fare una diagnosi precoce è fondamentale perché ci permette di intervenire presto e ci permette di avere una prognosi migliore del futuro. Ci permette di non avere quelle che vengono chiamate patologie secondarie, come vi dicevo, il ritardo, il ritardo mentale, come vi dicevo, l'ansia perché non capisco le situazioni, sto male nelle situazioni, non so decodificarle e quindi aumenta tutto il livello di ansia di una persona. Ci permette in qualche modo di avviare un processo di adattamento all'ambiente e un processo di relazioni anche frammenti in qualche modo diverse, estremamente favorevole per il bambino che innesca una specie di boomerang positivo. Non è facile farlo, in molti paesi ci si sta attrezzando con degli screening precoci, mandando alle famiglie per esempio degli screening abbastanza facili, oggi ci sono 15-20 domande a cui rispondere, se le risposte a queste domande danno un determinato punteggio ci si rivolge al pediatra che invia poi verso i centri medici adeguati del territorio. In altri paesi invece si sta lavorando con una formazione dei pediatri e quindi è il pediatra nel corso delle proprie visite che si accorge del problema e quindi lo segnala, comunque c'è una grandissima attenzione anche dando molto più ascolto ai genitori. In realtà i genitori da sempre nel corso del primo anno di vita hanno capito che qualcosa nel figlio non andava e si sono rivolti a pediatri, medici e molte volte gli è stato risposto aspettiamo e vediamo cosa succede. Ora per fortuna in questi anni la mentalità dell'aspettare si sta perdendo e quindi quando si vede che c'è un problema ci si attiva per andare a fondo e per cominciare degli interventi adeguati. I primi segnali quali sono? La mancanza per esempio di sorriso sociale, la scarsa risposta al nome, la difficoltà a stabilire una comunicazione, un certo ritardo in tutte le risposte comunicative dal gesto dell'indicare alle prime parole, ai primi rituali dei bambini. Quindi esistono diciamo dei segnali che possono essere individuati e i genitori hanno sempre richiesto in qualche modo, si sono sempre preoccupati e attivati quando hanno visto che il bambino parlava poco, quando hanno visto in qualche modo che il bambino restava spesso in una stessa posizione facendo un gioco sempre con lo stesso giocattolo oppure muovendosi in maniera stereotipata, muovendo le mani in maniera stereotipata andando avanti e indietro. I genitori hanno sempre notato dei segni che possono cominciare a essere considerati dei segni in qualche modo di attenzione che devono essere utilizzati. Oggi noi possiamo dire con una certa sicurezza che attorno ai 14-15 mesi di vita abbiamo una decina di segnali che ci fanno pensare, andiamo a fondo all'analisi di questo bambino. Abbiamo due segnali di cui mi piace parlare fondamentalmente perché fanno parte del gruppo delle ricerche del mio laboratorio. Una è il pianto e abbiamo visto per esempio come il pianto di un bambino con autismo è diverso dal pianto di un bambino con sviluppo tipico e come il pianto di un bambino con autismo, che ora vi faccio sentire, suscita in chi lo ascolta, madre, padre, delle risposte diverse. Abbiamo fatto degli studi abbastanza accurati su questo utilizzando anche tecniche di risonanza magnetica da cui si è visto per esempio che il pianto di bambino con autismo attiva delle aree del nostro cervello che sono predisposte proprio alla decodificazione dei segnali fastidiosi o dolorosi tipo l'insula. Vi faccio sentire il pianto, questo è il pianto... Allora se voi vedete è molto più uguale il pianto, c'ha poca variazione, vi faccio sentire l'altro del bambino con sviluppo tipico e si capisce. Il pianto comincia piano, poi si alza, poi arriva a un suo picco, c'è tutta una sua modulazione diversa e tutto sommato mentre lo senti il pianto come dire dici mi muovo, non mi muovo, alla fine mi muovo perché il pianto è molto forte. Il primo pianto come lo sentite vi viene un senso di dire devo fare qualcosa, sto bambino non va, ok? E questo pianto diverso crea ovviamente un circolo negativo esattamente contrario a quello che dicevo prima perché molte volte i genitori si sentono in difficoltà nel capire il significato di questo pianto perché noi siamo predisposti a decodificare il pianto a secondo del picco che ha il pianto. Se il picco è diverso la mamma non capisce il senso del pianto e quindi comincia una di quelle cose fondamentali della difficoltà dell'interazione con un bambino con autismo che è noi siamo costruiti per capire dei segnali del bambino che sono geneticamente determinati e sono in un determinato modo. Bambino con autismo, cervello diverso, dà risposte diverse e quindi genitori e insegnanti non sempre capiscono il bisogno e qui interviene il ruolo del terapeuta a dover modificare delle cose. Sempre altro aspetto importante legato alle nostre ricerche è quello relativo al movimento. Se vedete queste immagini e vedete quella specie di schema che c'è nell'immagine, quella specie di schema è un'automazione fatta al computer che ci permette di capire se il bambino sta in una postura simmetrica, cioè le due braccia sono nello stesso modo e le due gambe sono nello stesso modo, o in una posizione asimmetrica, un braccio in un modo e un braccio nell'altro. Lo vedete nella stessa stessi e questi sono bambini di cinque mesi, star seduti e nel camminare. Abbiamo visto che un grosso numero di bambini con autismo passa la maggior parte del loro tempo in una posizione asimmetrica e non in una posizione simmetrica. Questo ci permetterebbe per esempio molto precocemente di poter cogliere dei segnali di allarme. Attenzione, io non sto dicendo assolutamente che la diagnosi si fa utilizzando questi aspetti, ma sto dicendo allarme, muoviamoci. Vi faccio vedere per esempio questo filmato di un bambino come cammina, questi sono due cugini della stessa età a tre anni. Guardate l'enorme differenza nel camminare sia considerando il punto di vista dell'assimmetria delle braccia e delle gambe, sia considerando la postura diritta che si ha. La bambina è perfettissima nel suo comportamento, il maschietto che riceverà poi una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, invece va da una parte e dall'altra e ha un braccio e le gambe che vanno ognuno per i fatti loro. Questo per dire che noi abbiamo delle indicazioni nel primo anno, abbiamo ancora di più delle indicazioni nel secondo anno dove possiamo considerare il tipo di gioco che viene fatto, dove cominciamo a vedere anche il ritardo del linguaggio, il dire solamente poche parole per esempio e possiamo cominciare a vedere degli interessi strani, dei modi di agire strano, tipo essere attaccati a un oggetto e giocare solo con quell'oggetto e giocare muovendolo sempre avanti e indietro senza dare funzioni all'oggetto per esempio, oppure delle reazioni sensoriali agli stimoli sonori, alle luci esagerate, oppure avere un ritmo sonno-veglia completamente sballato, oppure avere delle attrazioni per stimoli visivi tipo le trame delle stoffe, tipo i piccoli colori che si vedono su qualunque su un muro o cose del genere, quindi attratti dalle cose piccolissime, dai piccoli particolari piuttosto che dall'immagine nel suo complesso. Queste stranezze, che a noi sembrano stranezze, sono l'altra faccia molte volte di comportamenti eccezionali, per cui per esempio un bambino con autismo è bravissimo a fare i puzzle, riescono a fare puzzle con un numero di pezzi molto maggiore di quello degli altri bambini della stessa età perché hanno una tale attenzione ai particolari per cui la costruzione di un puzzle è facilissima per loro, ma non guardando il contenuto ma guardando fondamentalmente la differenza delle forme dei vari pezzi del puzzle assieme. Allora, tutto l'aspetto diciamo della sensorialità dell'espressione facciale, io direi tutto quello che è relativo al funzionamento della parte più antica del cervello, quindi della zona troncoencefalica del nostro cervello risulta spesse volte alterata con delle manifestazioni iper e ipo, dando quindi origine per esempio a dei bambini che hanno la faccia completamente fissa e quindi fanno fatica a manifestare qualunque tipo di espressione facciale, oppure bambini che non riescono a leggere l'espressione facciale degli altri e quindi seguono solamente l'aspetto verbale di quello che uno dice piuttosto che capire quello che viene espresso col volto. Questi per esempio sono i bambini che sono inseriti in una classe di scuola, la maestra sta sgridando un compagno, loro assolutamente non colgono che la maestra sta sgridando quel compagno e vanno in ansia, in agitazione, si mettono a piangere, scappano fuori perché non riescono a capire dall'espressione della faccia, dal fatto che la maestra sta guardando un bambino, che loro sono fuori dalla sgridata per esempio. Allora comunque da tutto quello che vi ho detto, se diciamo che da una parte riusciamo a fare dei passi avanti, dall'altra parte ho anche sottolineato quanto difficile è fare una diagnosi precoce, perché mancano i mercatori biologici come vi ho detto, perché le differenze individuali sono molto forti e perché ci sono una serie di comportamenti che sono comuni anche ad altre forme patologiche. Un ritardo nel linguaggio può essere legato a un disturbo del linguaggio e non a uno spettro autistico per esempio, per cui è complesso. La formazione che si sta facendo agli operatori a tutti i livelli, cominciando da molto presto e cogliendo insegnanti, educatori, psicologi, professionisti, genitori in qualche modo, ci dovrebbe portare, in un po' di tempo, ad avere la possibilità di avere tra i 0 e i 12 mesi degli indicatori di rischio, a 12 mesi una prima diagnosi di rischio che dice lavora e vedi come si va, a 18 mesi una diagnosi provvisoria e a 24 mesi invece una diagnosi definitiva, abbassando di più di tre anni quello che avviene oggi normalmente, almeno parlo di dati italiani fondamentalmente, e abbastanza simili comunque anche in altri paesi anglosassoni, dove il livello meglio di diagnosi è ancora attorno ai 4 anni e non cose. Quindi l'obiettivo, una sfida è quella di arrivare a questo punto. Passiamo al secondo punto relativo alla scuola. Perché intervenire con la scuola? Ripeto, scuola intendo qualunque agenzia educativa, da noi ci sono anche gli asili nido, non so qui cosa, moltissimi bambini vanno negli asili nido, quindi vanno in situazioni comunitarie da quando hanno 7-8 mesi fino ai 2 anni e mezzo, poi le scuole primarie, parlo quindi di tutti i livelli, perché è necessario intervenire con le persone che si occupano di autismo in queste situazioni? Proprio per il discorso che vi facevo prima, perché il normale modo intuitivo di rapportarsi a un bambino, di insegnare a un bambino, di spiegare le cose a un bambino, di farli capire, di farli apprendere, di farlo progredire nel suo sviluppo, non funziona con i bambini con autismo. E questo vale anche per i genitori, quindi quando facciamo un trattamento con un bambino, dobbiamo ricordarci che dobbiamo fare un trattamento anche con i genitori, i genitori essendo genitori sono più bravi degli insegnanti e quindi molte volte loro fura di prova, fa e disfa, l'hanno anche trovata la maniera per fare delle cose con il proprio figlio, sono genitori e quindi trovano anche più facile un canale, però anche i genitori tante cose vale la pena di piegargliele, fargliele capire. Un esempio banalissimo che è quello che porta molti genitori alla diagnosi, il bambino è seduto, la mamma lo chiama da dietro, lo chiama, lo chiama per nome, lo chiama per nome e il bambino non si muove, la mamma alza sempre di più il tono della voce e il bambino sempre di più si agita, ma sta sempre fermo l'apo e scoppia a piangere, ma non si muove. La mamma dice mio figlio non mi ascolta, mio figlio lo chiamo e non viene da me. Quel povero bambino semplicemente ha una difficoltà sensoriale, non capisce uno da dove viene quella voce, perché non vede la persona, due non sa coordinare il suo movimento per fare quello. Se uno dice alla mamma guarda vai davanti quando lo vuoi chiamare, fatti guardare, alzali un po' la testa in maniera che ti guardi, mettigli la mano e tiralo su, lui capisce che deve venire con te, dieci volte, quindici volte, se lo chiamerei da dietro verrà, perché ha uno schema motorio a cui si è abituato, tu gli hai fatto capire cosa si deve fare e quindi a poco alla volta lui riuscirà a mettere dentro questa coordinazione. Ecco e questo è il motivo per cui bisogna lavorare con tutti gli adulti che sono con bambini con autismo. Ora non voglio entrare nel discorso scolastico di insegnante, classe speciale, scuola inclusiva, secondo me sono due cose fondamentali e noi dobbiamo quando parliamo di scuola a mio avviso parlare di progetto individuale per ogni singolo soggetto, perché per ognuno di loro ci sono delle differenze, ci sono dei casi in cui a mio avviso passare molto tempo in un'aula con altri compagni che fanno delle cose è meno integrante che stare fuori dell'aula, ci sono delle situazioni in cui invece il bambino può stare dentro perché può lavorare con i compagni e può fare delle cose con lui. Quindi secondo me è fondamentale che noi parliamo di individualizzazione dell'insegnamento e dissi posizioni da prendere diciamo nell'ambito della scuola diverse da bambino a bambino, ma ciò non toglie a mio avviso che tutti quelli che possono essere in contatto col bambino in quella scuola, l'insegnante speciale che si presuppone abbia una sua formazione precedente, ma ancora non credo, non lo so se da voi sì, ma in tutti i paesi che ho visto le formazioni speciali non sono formazioni specifiche sull'autismo, sono formazioni ampie sul disagio del bambino, ma non sono localizzate proprio sull'autismo e io insisto sempre molto sul fatto che autismo non è disabilità generica, è una forma specifica che deve essere conosciuta nel particolare, è un cervello che funziona diverso, non è un cervello che funziona meno, quindi bisogna proprio fare una cosa diversa. Allora noi riteniamo che sia fondamentale un modello di formazione che non è quella di questo congresso o di 12 ore mie che spiego a lezione tante cose dettagliate, ma che sia una formazione che abbia delle basi teoriche, quindi che dia qualche formazione teorica, ma qualcosa minimale in qualche modo in cui si spiegano alcune cose fondamentali e poi sia invece una formazione di accompagnamento, cioè il professionista che può essere lo psicologo, può essere lo psicologo scolastico, noi molte volte siamo i riabilitatori, siamo gli psicologi dell'università, ora ogni contesto ha i suoi specialisti e quelli che sono adibiti a fare formazione, ma chi fa formazione dovrebbe in qualche modo accompagnare il processo di sviluppo di questo bambino nell'ambito del contesto della sua istituzione, quindi capire com'è quel contesto, capire quel bambino quanto tempo deve stare in classe, quanto tempo deve stare in classe con altri bambini che hanno dei disturbi, quanto tempo deve avere un insegnamento individualizzato, che tipo di gruppo si può formare con i compagni, quali tipo di compagni possono stare bene con lui per giocare e per fare delle attività sociali, non è detto che tutti i bambini sono, basta che sta con gli altri, no? Se io ho tre bambini più il mio bambino autistico in un gruppo, i tre bambini giocano fra di loro e non lo guardano mai all'autistico, non è una bella forma di gioco sociale quella, ho bisogno di bambini che sono disponibili a giocare con l'altro, ho bisogno fondamentalmente di un adulto, di un insegnante, sia esso insegnante di classe, sia esso insegnante speciale, sia esso insegnante di ginnastica o di cose, che sappia far interagire dei bambini, che sappia il problema del bambino autistico e sappia come muovere i compagni per stare con lui. In questo noi diciamo che la formazione base degli insegnanti non è sufficiente, dobbiamo fare una formazione specifica che porti man mano le persone che nelle scuole stanno con bambini con autismo ad avere un livello di capacità di individualizzare i compiti e saper lavorare con loro nello specifico, insomma, no? Ecco, quindi accompagnamenti che prevedono per esempio anche dei laboratori in cui lo psicologo, il riabilitatore fa delle attività anche con gli altri bambini per far vedere come si fa. Attività, accompagnamento per cui gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti speciali, gli insegnanti che lavorano ogni tanto possono avere un momento con un esperto per parlare delle loro difficoltà. Quindi stiamo parlando diciamo di una forma di formazione diversa dalla classica lezione in cui si aiuta la persona che sta con un bambino con autismo prima di tutto a costruire la relazione, poi a potenziare la comunicazione col bambino autistico, poi sviluppare le abilità sociali e poi occuparsi di sviluppare le abilità cognitive e didattiche che ugualmente sono necessarie per andare avanti. Tenete presente che io sto parlando di bambini con autismo che hanno livelli intellettivi molte volte anche molto molto alti, quindi io mi devo occupare assolutamente di farli progredire nell'istruzione, mi devo occupare del fatto che loro fanno le scuole elementari, le scuole medie, fanno un liceo, un liceo, una scuola secondaria in qualche modo e che volendo possono andare anche all'università, perché se hanno l'intelligenza, perché no, dobbiamo pensare alla possibilità di farli crescere e quindi sono fondamentali anche le abilità cognitive, però state tranquilli che un soggetto con autismo non riuscirà mai a seguire una classica lezione in classe al liceo in cui l'insegnante sta qua e mi spiega e tu stai un'ora e mezza a sentire la spiegazione, dopo un po' della spiegazione si è alzato, se ne è andato, se ne è andato, se ne è andato, ma anche un quindicenne, un sedicenne, non riuscirà mai ad andare nel laboratorio di fisica con 5-6 persone, tutti quanti su un piccolo banco a lavorare assieme, perché lì si sentirà mancare l'aria e andrà via, quindi ci sono anche per i ragazzi intelligenti, per quelli con l'autismo ad alto funzionamento, con sindrome di Asperger, delle difficoltà che vanno comunque gestite e per ognuno di loro è fondamentale che ci sia una relazione di forza, di fiducia, di positività col gruppo insegnanti, non con l'insegnante unica, col gruppo insegnanti, che sia tranquillo di poter andare a scuola e sapere che può parlare con degli insegnanti o se non può parlare sono degli insegnanti che usano i sistemi di comunicazione per farsi capire e quindi lui si possa sentire sicuro. Quindi studiare il sistema di comunicazione più adatto, che molte volte può essere il sistema verbale accompagnato da immagini, che per esempio per gli adulti ad alto funzionamento può essere quello di accompagnare il verbale con delle parole scritte, con delle liste di cose da fare. È facilissimo che un soggetto ad alto funzionamento ha da fare una procedura matematica, si perde la procedura. Se tu hai prima risolvi la parentesi di un tipo, poi quella di un altro tipo, prima fai le addizioni, poi fai le moltiplicazioni scritto, questo per esempio lo aiuta ad arrivare alla fine del compito senza disperdersi. Bisogna lavorare per tutti sugli abilità sociali, banali, dal possiamo giocare assieme, possiamo studiare assieme, entro in un negozio saluto, vado in un luogo di lavoro e so che la prima cosa è salutare per esempio quando si arriva la mattina, che non sono assolutamente delle cose scontate. E poi come vi dicevo lavorare sulla didattica, ma la didattica deve necessariamente essere diversa e deve essere orientata dal punto di vista evolutivo a una didattica che sia costruttiva, cioè si fanno assieme delle cose, non io spiego e tu apprendi, e sia attiva, cioè permetta di fare esperienze, da quelle esperienze di assumere una serie di concetti e di apprendimenti da imparare. Ultima sfida, quella forse più difficile in questo momento per noi, è quella del lavoro e della vita sociale. Allora, alcune esperienze sono quelle che ci portano a pensare che nella vita sociale e relazionale dobbiamo necessariamente sviluppare delle competenze per questi ragazzi per poter affrontare il futuro lavorativo. Quindi a scuola bisogna cominciare a parlare di modi sociali di stare con gli altri, di mantenimento ovviamente di competenze mentali, cognitive, ma dobbiamo anche lavorare su quella che è la motivazione e l'autostima. Cioè io mi devo sentire una persona che fa parte di un processo sociale. Devo veramente togliere dalla testa l'idea dell'autistico come handicappato. Va tolto per tutte le disabilità questo concetto dell'handicappato, però veramente l'autistico che anche quando non riesce a parlare bene, però ha delle buone capacità di elaborazione mentale, io devo assolutamente evitare di farlo sentire una persona inadeguata, inutile, che può non fare le cose perché tanto non è capace di farla. Credo che questa sia una cosa fondamentale su cui lavorare nella scuola. Quindi una scuola che lavora in contemporanea sulle funzioni cognitive e quindi saper fare e su tutti gli aspetti emotivi e relazionali. Cioè non dobbiamo pensare che a scuola si fanno gli apprendimenti e poi i riabilitatori mi aiutano nella vita sociale o mi fanno le terapie. Dobbiamo pensare una scuola perché sono ragazzi che stanno 4-5-6 ore al giorno a scuola dove si uniscono questi due aspetti e dove in qualche modo a un certo punto si prepara la vita. La vita può essere per alcuni l'università ma poi ci sarà sempre il lavoro anche per loro e quindi dovremmo sempre lavorare anche per questo e l'altro pezzo della vita invece sono il lavoro che è possibile fare. Quindi cercando di capire ragazzo per ragazzo dove è possibile inserirli e dove possiamo fare delle cose che possono essere al computer. Molti ragazzi autistici riescono a fare degli ottimi lavori al computer, possono essere invece più manuali in qualche modo di agricoltura, orto biologica e così via. In questo momento per esempio nella nostra università siamo impegnati in un progetto per cui nel nostro dipartimento abbiamo assunto come esperienza lavorativa tre ragazzi con autismo, l'abbiamo fatto nel nostro dipartimento cercando di fare una sperimentazione per capire cosa serve e vi garantisco che non c'è una regola, nel senso sono tre persone, sono assolutamente diverse, per uno è stato facilissimo l'inserimento, per due è veramente difficile nonostante siano tre persone con livello intellettivo molto alto e quindi con possibilità di fargli fare delle cose anche di un livello alto ma per esempio uno di questi rifiuta di fare una cosa, è un grafico, quindi tu gli dici prepara l'evento, lui lo prepara ma non vuole che nessuno lo revisiona e quindi devi lavorare sul fatto che non può andarci bene subito quello che fa lui ma deve mediare su questo. Quindi è veramente un compito difficile in cui a mio avviso bisogna prepararsi veramente quando i bambini sono piccoli. L'ultimo compito secondo me molto importante è quello di pensare dove vivranno queste persone, mica possono vivere tutta la vita con mamma e con papà né possono andare negli istituti a vivere, bisogna trovare delle forme di coabitazione sociale in cui loro si sentino, si sentano di stare con persone della loro età con cui sono contenti di passare il tempo, con cui si trovano bene e che in buona parte almeno per molte fasi della vita li aiutano. Stiamo facendo a Rovereto una sperimentazione con una cooperativa sociale di fare una coabitazione con i nostri studenti dell'università, quindi avere degli appartamenti con 4-5 posti letto, permettere agli studenti di pagare una tariffa ridotta di abitazione e occuparsi della vita dei soggetti con autismo. Occuparsi vuol dire far sì che una volta uno, una volta l'altro, la sera si fanno delle attività assieme oppure si capisce lui dove sta la sera, i compagni come stanno la sera. Organizzarsi vuol dire far rispettare il turno della pulizia, questo vuol dire, ecco non è che abbiamo delle persone che fanno gli educatori, vuol dire dare un occhio e spingere verso degli abitudini e una vita sociale che può funzionare. Questa è una prima esperienza, ci auguriamo di poter nel tempo dare dei risultati e vedere come va, come cosa. Ecco io con questo vi ringrazio e mi auguro di poter avere uno scambio proficuo anche nel futuro sui nostri lavori. Grazie a tutti.